E' in giro anche. Ci vedete bene? Benissimo. Anche qui. Ok, siamo in diretta, gente. Parli arabo? No. Farsi? No. Ovvio. Dovrò usare la vostra roza lingua medievale. Perché siete tutti dei cani ignoranti. Vedo che iniziamo con il piede sbagliato, Pai Hassan. Sono un ufficiale della Forza Kuzza. Comandi un gruppo terroristico internazionale. Potrei dire lo stesso di te. Il tuo obiettivo? Maggiore. E il vostro nel bombardare la mia casa? Beh, probabilmente farvi il culo. Così insolente e volgare. Ma mi rispetterai quando la donazione brucerà. Ti sei messo in affare con un cartello. Se sparissi, nessuno saprebbe dove cazzo cercare. Di sicuro ti piacerebbe torturarmi. Da chi hai preso i missili americani? Non voglio sapere da dove vengono. Voglio sapere dove vanno. Guardati attorno, Hassan. Puoi fare amicizia con i coiote. O parlare un po'. Sono in ostaggio. È un crimine. Sei un prigioniero di guerra. L'Iran non è in guerra col Messico. Non ho infranto la legge. Sono questi uomini e i loro comandanti a farlo. Tu e il tuo amato Gorbrani avete violato... Dire il suo nome! La pagherete per averlo giustiziato! Voglio subito quel brutto bastardo in custodia permanente. O sotto due metri di terra. Generale, ucciderlo è un atto di guerra. E detenerlo è illegale. Per ora scotta troppo per noi. Dimmi che abbiamo qualcosa di perseguibile, Laswar. Ci sto lavorando. Attendere. Capo, mi faccia finire il lavoro. Lo farei più che volentieri. Ma Laswar ha ragione. Senza prove dobbiamo lasciarlo andare e vedere dove ci porta. Ora è nostro, non dirà sul serio, signore. Temo di sì, figliolo. C'è qualcosa sul telefono? Affermativo. C'è una pista. Bene. Ora riportatelo indietro e liberatelo. Ria, vamo. Nei dati hackerati sul telefono di Hassan in Messico, siamo risaliti fino alla costa della Spagna. Hassan stava comunicando con qualcuno quando l'abbiamo preso. Si tratta di un vivaio usato come copertura per i traffici del cartello. È isolato e sull'acqua. L'ideale per contrabbandare dei missili. Dobbiamo andare sul posto e vedere se i missili sono lì. Le immagini mostrano almeno quattro strutture e un faro. Dobbiamo guardare dentro, ma è strettamente sorvegliato. È facile mimetizzarsi nell'erba alta con l'equipaggiamento giusto. Tutte mimetiche. Esatto. Io terrò d'occhio la costa e provvederò all'estrazione via mare. Non dovresti essere da sola laggiù, Kate. Troppo pericoloso. Non c'è alternativa. Qui non abbiamo giurisdizione, John. Ce la giocheremo bene. Ricognizione attiva non autorizzata. Niente di ufficiale. Vi contatto appena sono in posizione. Troviamo quei missili prima che Hassan li porti a casa nostra. Watcher 1, bravo. Sono in posizione a mezzo chilometro dalla costa. Qual è la situazione? Rotti in posizione di tiro. Vediamo un paio di bersagli armati nel campo. Luce verde, quando volete. Roger. In attesa. Gas. Vento assente. Duecento metri. Come. Bravo, situazione? Bravo, mi ricevete? Sì, Watcher. Due a terra. Bene. Continuate ad avanzare. Tieni d'occhio le pattuglie morti e la squadra di terra davanti a noi. Li vedo. Cartello? Probabile. Avviciniamoci di suo piatto e scopriamo che cosa vogliono nasconderci. Stai giù nell'erba. Non dobbiamo per forza ingaggiare. Usa il fucile di precisione, sergente. È la scelta migliore. Watcher, bravo. Come andiamo, signori? In movimento, Laswell. Ci sono guardie del cartello. Niente che possa contenere un missile? Negativo. Ok. Continuate. Chiudo. Chiudo. Stop. Due a sinistra. Usa il mirino termico per individuare il mio laser. Fermo. Nemici a sinistra. Marco con laser. Usa il mirino termico. Altri due. Lato sinistro. Vesti. Beccalo. Io penso all'altro. Colpo pulito. Spettacolare. Avanziamo. Stammi vicino. Bravo. Parla Watcher. Dove siete? Vicino alle turbine. Bene. Dirigetevi verso gli alberi davanti a voi. Vi daranno un po' di riparo. Ricevuto. Aspetta. Arrivano veicoli. Arrivano veicoli. Sì, c'è spazio per i missili. Seguiamolo. Bravo Watcher. Trasporti in movimento a nord rispetto a noi. Uno trasporta un container. Potrebbe avere i missili. Bene. Ma è quello che cercavamo. Risalgo la costa per avere una visuale migliore. Non perdetelo. Ok. Ok. Chiudo. Tunnel sotto la strada. Usiamolo per passare dall'altra parte. Ok. Seguo. Cartello e terroristi. Strana accoppiata, eh? I terroristi si fissano sul passato. I narcos guardano al futuro. Cos'hanno in comune? Territorio e sangue fresco. Entrambi attirano i giovani. Sempre una lunga fila di nuove reclute. L'erba è più alta. Ci nasconderà meglio. Accovacciati e non farti vedere. Fermo. C'è movimento. In avvicinamento. Piccola pattuglia. Davanti a noi. Gas, nascondi l'arma. Cerca di anticipare i loro movimenti. Se devi muoverti, fallo piano e in silenzio. Nessun movimento rapido. Non muovere la testa. Passeranno vicini. Dimmi che gli ascoltraste algo! Zona segura. Se proprio, guarda. Fermo. Altri due davanti. Usa il mirino termico per avere uno visuale. Li vedo. Quando vuoi. Colpo letale. Siamo una bella coppia. Possiamo andare. Gas, struttura davanti. Nessuno all'esterno. Forse dentro c'è qualcuno. Usa il sensore di battito cardiaco per controllare se l'edificio è scombro. Libero. Non c'è nessuno. Roger. Proseguiamo. Si sono fermati per una chiacchierata. Non serve ingaggiare. Passeremo indisturbati. Sono ripartiti. Nessuna visuale. Va bene. Ci penso io. Proseguiamo. La linea degli alberi davanti. Andiamolo su. Gli alberi ci nasconderanno meglio, ma occhi aperti. Attenti. Il camion ha accostato. Forse lo stanno caricando nel magazzino. Personale armato nelle vicinanze. Ricevuto. Laswell. Dimmi tutto, Garrick. La sua arma preferita? Non c'è. Di volta in volta scelgo quella più adatta. Parli come una vera guerriera, Laswell. La tua, Kyle. Fucile di precisione. Culatta mobile o semi-automatico? Culatta mobile, più affidabile e leggero, meno parti in movimento. Piccolo quiz. Sai da dove viene il termine, cecchino? In effetti sì. Viene dalla caccia. Dal nome di un uccellino ben mimetizzato. Bastava beccarlo per diventare un cecchino. Ci siamo quasi. Oltre questo crinale, avremo una linea di tiro sull'edificio principale. Se i missili sono qui, li hanno forzati dentro. Vedo l'edificio principale. 400 metri. A ore 1. Appostati nell'erba. Vediamo chi c'è in casa. Usa il mirino per controllare la zona. Cazzo, capitano. Qui i bersagli non mancano. Confermo. Il cartello è qui in massa. Usa lo zoom variabile da qui. Siamo molto distanti. Non sparare. Prima dobbiamo calibrarci per la distanza. Watcher, ci siamo. Fatene fuori più che potete da quella posizione. Partite da quelli più esterni. Ricevuto. Mettiamoci al lavoro. A te l'onore. Adesso è solo. Compensa la mira di tre tacche e mezza. Eliminato. La Sanmas ringrazia. Bene. Occhi aperti. Non devono raggiungere i corpi dell'altra pattuglia. È da solo. Compensa di quattro tacche. Il cartello perde pezzi. Pensione anticipata. Prendine uno. Io prendo l'altro. Tre tacche e mezza. Andato. Colpi puliti. C'è solo lui. Adesso è solo. Tre tacche e mezza. Ha chiuso. Butta male per il sicario. Non è durato molto. Eliminato. Era vicino a un cadavere. Qui ha chiuso. C'entrano i due in un colpo. Io prendo l'altro. Quattro tacche. Annanna. Cazzo che tiro. Gli altri due possono vederlo. Cambia posizione e cerca di eliminarne due in un colpo solo. È nella visuale di altri due nemici. Cambia posizione per eliminarne due in un colpo solo. È da solo. Tre tacche. Concentrato. Non male. Adesso è solo. Elimina quei due con un colpo. Io penso all'amico. Quattro tacche. Centro. Roba da professionisti. C'è solo lui. Tre tacche e mezza. Fregato. Brutta giornata per i narcos. Ucciderò. Io prendo l'altro. Tre tacche. Dritto sul bersaglio. Siamo una bella coppia. Fallolo fuori. Il suo amico è mio. Beccato. Spettacolare. Spettacolare. È da solo. Preso. Bel colpo. Adesso è solo. Non è durato molto. Per lui non era giornata. Prendo il suo amico. Tre tacche. Colpi puliti. Quelli sono civili. Disarmati. Che cazzo ci fanno qui dei civili? È un vivaio in attività. Qualcuno darà da mangiare i pesci. Altri due possono vederlo. Vuoi cambiare posizione e beccarne due in un colpo solo? Allora. ce l'ho tre tacchi colpo letale wow allora al corso per cecchini insegnano ancora qualcosa adesso abbiamo campo libero vai laggiù e trova un ingresso io resto qui in copertura andiamo insieme in due avremo più possibilità negativo sergente ti serve copertura e io sparò meglio di te ricevuto e confermato ragazzi qui non vedo movimenti se trasportano dei missili se ne sono già andati oppure sono dentro quelle strutture speriamo la seconda stop gas hai i veicoli in arrivo verso di te dal retro dell'edificio non ti hanno visto tranquillo scendola dai veicoli sta fermo e non ti noteranno se cerchi uno scontro ce l'avrai indossano con anzi mira alla testa se devi attaccare che Grazie a tutti. 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 Paro. Grazie a tutti. 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 potrebbero... Grazie a tutti. 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 Bene. Cerca di entrare. Dobbiamo sapere se i missili sono nascosti in quelle strutture. Ricevuto. Ci sto lavorando. Sono questo. Rimessa libera. Rimessa libera. Direttore. La russa è allineata con l'Iran. La faccenda è sempre più grossa. Gli edifici dall'altra parte sono ancora occupati. Ripuliamoli e troviamo l'ingresso di quel tunnel. Ok, vado. Quei lucernari mi sembrano un'ottima soluzione. Benissimo. No. 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 Cade addosso. Cade addosso. No. 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 Armi libera. Interno libero. Sono nel paradiso del contrabbando. Cosa vedi? Nemici uccisi e pacchi pieni di non so cosa. Suppongo droga. Missili. Negativo. Questi erano anche all'oggi. Aspettami là, Gas. Ti raggiungo. Dobbiamo trovare l'ingresso per quei tunnel. EXPLOSIONAL Forse ho trovato qualcosa capitano. Posso avere una mano? Mi spingo e tutto. Sì! Ehm... 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 Abbiamo un passaggio. Ottimo lavoro. Harder��! Bingo! Attenzione. Forse ho trovato qualcosa capitano. Posso avere una mano? Mi spingo e tutto. Ehi, abbiamo un passaggio Ottimo lavoro Guarda qua Bingo Attenzione, ho diverse imbarcazioni in avvicinamento Serve aiuto? Saranno pescatori Voi continuate Con me Ossia, dove stai? Scendo Un cartello è fissato Vorrei poter dire lo stesso Precedenza ai vecchi, Capitano È lunghissimo Deve portare fino alla costa Gate, sono nei tunnel Vado verso la costa Ok? Per ora sì, ma le imbarcazioni si avvicinano Non mi piace, Gate Sono ai rischi del mestiere, John Non dovresti intervenire lì da sola Non sono sola Sono armata e pericolosa, Capitano Chiudo Libero Fine della corsa Ehi, guarda che roba Sottomarina Porca puttana Il cartello di mezzo di trasporto Abbastanza grande Né dubito L'alcatorce non supererebbe l'Atlantico Gate, siamo in una caverna vicino alla costa Deserta Niente misto Ok Sono dalla parte opposta Forse qui si mette male, John L'ho ricevuto L'attendi Gas, punta l'arma in direzione del mare Che succede? Imbarcazioni in arrivo Penso al Catala Hanno armi Contatto Cazzo, stanno abortando Cazzo, stanno abortando Cazzo, porca puttana Non riesco a vedere L'hanno circondata Ora scambio E' al Catala aborto Cercavano proprio Forse Forse Non mi arrenderò L'hanno presa L'hanno presa, Capitano Hanno preso l'Haswell Andiamo, ce ne parliamo con Shepard Andiamo Dobbiamo riprenderci l'Haswell Andiamo Alla prossima